Ciao a tutti e benvenuti qui su ShidoLineart Games con un nuovo gioco su AppAndroid Questo gioco si chiama allenatore Pokémon o qualcosa del genere E da qualche ho capito dovrebbe essere una specie di quiz Vedremo Tipi di corrispondenza allenatore quiz che vi farà meglio a lotta Evidentemente chi ha fatto questo gioco non è molto bravo in italiano ma lasciamo perdere Anche se non si dovrebbe lasciar perdere Allenati con quante domande che è possibile personalizzare per i vostri punti di forza e debolezza Il tuo avversario è fuoco Scegliete il peggior tipo di attacco Ok Fuoco direi di peggior tipo di attacco è folletto Folletto fa 0.5 fuoco quindi ben fatto Il tuo avversario è spettro scegli il miglior tipo di attacco Spettro naturalmente lo spettro è debole a se stesso ragazzi Ok domanda successiva Il tuo avversario è folletto il miglior tipo di attacco è? Veleno Il folletto è debole al veleno vero? Sì Il tuo avversario è roccia Miglior tipo di attacco è sicuramente il tipo acqua Molto bene Il tuo avversario è buio il peggior tipo di attacco? Beh psico dovrebbe essere Infatti perché lo psico fa 0 danni al buio Il tuo avversario è folletto Miglior attacco è veleno L'abbiamo già visto prima Il tuo avversario è erba Quindi il veleno è il miglior tipo di attacco Perché il veleno è più forte dell'erba Il tuo avversario è il fuoco Peggior tipo di attacco? Vediamo Peggior tipo di attacco? Sono indeciso Dovrebbe essere folletto? Perché gli altri non credo che siano Sì Perché il folletto fa 0.5 danni sul fuoco Questa è una novità Non lo sapevo Chissà se è vero Il tuo avversario è coleottero Il peggior tipo di attacco può essere? Coleottero stesso? No Perché il coleottero farà uno più danno Era terra Ok Il tuo avversario è elettro Il peggior tipo di attacco? Elettro credo Sì Perché fa metà dei danni Il tuo avversario è coleottero Il miglior tipo di attacco contro un pokemon coleottero è? La roccia Ok Ben fatto La modalità sfida è stata ora sbloccata E può essere avviata dal schermato principale Adesso possiamo avviare la sfida 2 di fila Non male Si può tornare indietro? Ok Possiamo fare la sfida Completare una sequenza di domande con varie difficoltà Proviamoci Benvenuti alla modalità sfida Potrei rispondere a una serie di domande E ottenere un punteggio alla fine Difficoltà harder? Hanno più domande? Mamma mia che italiano di schifo C'è un bonus di tempo per ogni domanda Va bene C'è un tempo Insomma Ci sono delle domande Facile Ancora Il tuo avversario è drago Scegliere il miglior tipo di attacco Drago Il tuo avversario è normale Miglior tipo di attacco lotta Il tuo avversario è lotta Il tuo avversario è drago Miglior tipo di attacco è ghiaccio Il tuo avversario è lotta Miglior tipo di attacco è volante Il tuo avversario è volante Miglior tipo di attacco è elettro Il tuo avversario è psico E lo psico è debole al buio Invece il drago è debole a se stesso La lotta è debole Al folletto? Lo psico Lo psico è debole allo spettro Il folletto è debole A che cosa? Ah 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 Non lo so All'acciaio? Impressionante Il tuo puneggio è 64,560 Ok Qui adesso possiamo fare la difficoltà media Vediamo un po' come ce la capiamo Il tuo avversario è elettro Spettro è il miglior Ah 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 Ecco Allora Eletro spettro Può essere debole alla roccia? No Il mio avversario è drago Il tuo avversario è drago Quindi è debole al drago Il veleno è debole allo psico Erbalotta È debole a Difficile Molto difficile Allora Erba è resistente Buio È resistente Lotta e veleno anche No veleno Ok Il tuo avversario è drago buio Quindi a cosa potrai mai essere debole Alla lotta direi Il tuo avversario è volante Quindi è debole all'elettricità No Ah è la peggior attacco L'ho dato per scontato Allora L'avversario folletto È resistente Contro Ehm Ehm Contro un avversario di tipo roccia Noi usiamo Contro un avversario di tipo roccia Noi usiamo l'acqua Ovvio Ehm Contro un avversario normale Lotta Contro un avversario di tipo lotta Invece usiamo Il folletto Contro un avversario di tipo dragon Usiamo il ghiaccio Contro un avversario di tipo volante L'elettro Contro un avversario spettro veleno Io direi di usare Lo psico O lo spettro Contro un avversario di tipo normale Usiamo la lotta Perché è l'unico tipo Ok Vediamo come Ah il medio non l'abbiamo ancora Vabbè Vediamo un po' cos'è punteggio Guarda i punteggi Ah quindi possiamo vedere i nostri punteggi Ok io direi che dobbiamo assolutamente Riuscire a fare la sfida in media Perché vogliamo vedere Vedere la sfida difficile E poi sbloccare l'ultimo Quindi Sfida media Il tuo avversario di tipo buio Quindi noi utilizzeremo Coleottero Oddio non lo so Ok Il tuo avversario di tipo volante Quindi utilizziamo il ghiaccio Il tuo avversario di tipo normale Quindi non bisogna assolutamente Usare lo spettro Il tuo avversario è tipo fuoco Quindi bisogna assolutamente Usare la roccia Quando è l'avversario di acqua veleno Allora Il miglior attacco da usare è Vediamo È debole all'erba Ma no Ma è debole all'elettricità Il tuo avversario è d'acciaio Quindi la cosa più conveniente da fare Usare la lotta Il tuo avversario è fuoco Quindi non usare assolutamente Peggiore attacco Dovrebbe essere l'erba Il tuo avversario è di volante Coleottero Quindi quale cosa gli farà male La roccia Il tuo avversario è di tipo buio 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 Il folletto mi sa Il tuo avversario è di tipo folletto Quindi la cosa miglior da usare contro un folletto È l'acciaio Il tuo avversario è di tipo ghiaccio Il miglior attacco contro il tipo ghiaccio È L'acciaio mi sa Il tuo avversario è di tipo ghiaccio Acqua Allora Dovrebbe essere la roccia Perché la roccia dovrebbe far male al ghiaccio Ok Il miglior attacco è di tipo ghiaccio Contro un coleottero Terra Beh acqua penso Perché il resto no Ok Il tuo avversario è di tipo lotta Quindi assolutamente usare un tipo folletto Il tuo avversario è di tipo ghiaccio Miglior attacco contro il ghiaccio È la lotta E abbiamo vinto Ok Adesso no Non abbiamo ancora Dobbiamo essere più veloci evidentemente Ok Quindi questo è il gioco Che si chiama quiz pop Pocca L'allenatore lotta Una cosa del genere L'italiano scarseggia in questo gioco Ed è pessimo Però le domande possono essere interessanti Per imparare a capire le debolezze E le resistenze dei pokemon E utile anche in tipo di lotte particolari Come le lotte inverse Dove bisogna ragionare al contrario Quindi Spero che il video vi sia piaciuto E che questo gioco android Così sia stato carino per voi Da vedere Da scoprire E un saluto allo dal vostro Shido Lineart In un nuovo Per un prossimo video qui su Shido Lineart Games Ciao a tutti Ciao a tutti